Salve amici, qualche settimana fa vi avevo presentato un microfono chiamato Pietro, che mi aveva prestato la mia amica e che ora è tornato indietro. Adesso volevo presentarvi questo qui, chiamato Dario, di cui io sono il proprietario, e vi faccio ascoltare un pezzo con questo. Dario, di cui io sono il proprietario, e vi faccio ascoltare un pezzo. Dario, di cui io sono il proprietario, e vi faccio ascoltare un pezzo. Dario, di cui io sono il proprietario, e vi faccio ascoltare un pezzo. Dario, di cui io sono il proprietario, e vi faccio ascoltare un pezzo. Dario. 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 Dario.